Buongiorno, nuovamente ben svegliati e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Antenna 85, DG Interprovinciale, Lecce, Brindisi e Taranto, è iniziato ieri mattina il processo a carico di Antonio De Marco l'assassino Reo Confesso di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta uccisi con 70 coltellate lo scorso 21 settembre nel loro appartamento di Lecce De Marco ha scelto di non comparire nell'aula bunker della corte d'assise di Lecce erano presenti però la mamma di Eleonora e il padre di Daniele la difesa di De Marco ha presentato richiesta di perizia psichiatrica accolta dalla giudice mentre è stata respinta quella di rito abbreviato il processo è stato riaggiornato al prossimo 2 marzo ha preso il via nell'aula bunker del carcere di Lecce Borgosa Nicola il processo a carico del 21enne di Casarano Antonio De Marco accusato del dublice omicidio di via Montello la sera del 21 settembre scorso Eleonora Manta e Daniele De Santis vennero uccisi con 70 coltellate nel loro appartamento è stata rigettata dalla corte d'assise di Lecce la nuova richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali dello studente di Casarano se nel corso dell'istruttoria dovessero cadere le aggravanti la richiesta potrà essere riformulata accolta è invece la richiesta di una nuova perizia psichiatrica presentata dai legali di De Marco l'imputato non era presente in aula il De Marco a compasso non è presente si dichiarà l'assenza o le notifiche rituale è una legittima scelta dell'imputato che non ha inteso partecipare all'odiernoudienza beh sicuramente è consapevole della situazione in essere del processo un poll di sei esperti dovrà valutare la capacità di intendere e volere del giovane omicida al momento del delitto tutti i consulenti dovranno comparire nell'udienza del prossimo 2 marzo per il conferimento dell'incarico non vi è la possibilità di accedere a quel rito alternativo potrebbe sempre recuperarsi il beneficio premiale del rito alternativo con la possibilità di ottenere la riduzione di un terzo si accoglie invece la richiesta di perizia psichiatrica sapevamo che la richiesta di rito abbreviato era inammissibile ma è stata fatta per motivazioni di carattere tecnico qualora all'esito del dibattimento dovessero poi essere escluse le contestate aggravanti riteniamo che sia fondamentale ai fini dell'accertamento della verità l'espletamento di una perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato mi sono opposto ovviamente perché auspicavamo che questa perizia venisse disposta successivamente all'esame dibattimentale esistono i futili motivi e lui ce l'ha tutti lui è l'incarnazione del male e ha scelto deliberatamente di fare questo con una premeditazione che è lunghissima, dettagliata pertanto riteniamo che abbia assolutamente la capacità di discendere perché l'ha scelto prima, durante e dopo cambiamo argomento erano in centinaia in piazza del popolo a Roma i lavoratori del comparto del gioco legale in Italia chiedono di riaprire in sicurezza e vogliono rassicurazioni da parte del nuovo governo 150.000 persone in cassa integrazione, tra queste in particolare sono donne ma anche uomini che scendono in piazza, ancora una volta, in una protesta congiunta che tocca Roma e Milano a distanza di pochi giorni, questa volta in piazza del popolo, sono scesi in piazza i lavoratori del gioco pubblico legale di Stato la pandemia ha colpito con le misure restrittive in particolare questo settore, schiacciandolo letteralmente per molte piccole e medie imprese che sono nel settore da 30-40 anni questo significa una chiusura definitiva poiché il loro indotto è pressoché pari a zero siamo al fallimento, avremmo bisogno di un abbassamento della tassazione di riportare la tassazione magari a quella che era nel 2019 poiché comunque abbiamo subito due aumenti di tassazione da chiusi di fatto i pochi ristori stanziati dal precedente governo non hanno garantito l'autosufficienza del coprire i costi di affitto dei locali e soprattutto spese sostenute per sanificare e mettere in regola le strutture per contenere il Covid il neo governo non ha ancora dato nessuna indicazione ad una possibile riapertura tra gli addetti ai lavori anche tanti politici non c'è motivo di restare chiusi se si rispettano i protocolli di sicurezza e dove i protocolli di sicurezza sono rispettati così come tutte le altre attività non bisogna creare una discriminante per chi svolge un gioco in concessione dello Stato per conto dello Stato quindi e lo svolge nella legalità e nel rispetto delle regole nella sicurezza si deve poter lavorare quindi Fratelli d'Italia chiede che le partite IVA, i lavoratori autonomi le sale giochi, i ristoranti, i bar, le palestre, il mondo del turismo possa lavorare dobbiamo fare in modo che chi la legalità la rispetta chi ha fatto un patto con lo Stato per aprire le sue attività per dare del lavoro, per giocare, e uso un termine che può essere qui ma per giocare con le regole non può essere messo nell'angolo è giusto è chiaro che se si ferma il gioco legale si aiuta il gioco illegale e si aiuta chi gestisce il gioco illegale cioè la criminalità e i gruppi di interesse economico poco trasparente i colleghi parlamentari che passano attraverso queste manifestazioni devono secondo me rispondere non soltanto qui sul palco ma anche poi in aula alzando la mano sugli emendamenti che dicono le cose che diciamo qui Restiamo a Roma dopo il voto di fiducia al Senato che ha visto 15 componenti del Movimento 5 Stelle votare contro il governo Draghi oggi è arrivato all'espulsione dal Movimento alla Camera sono pronti altri 10 dissidenti sentiamo l'intervista all'onorevole Giuseppe Brescia dei 5 Stelle Io capisco il malessere che ci possa essere in questa fase nessuno di noi sta prendendo questa storia a cuor leggero e tutti noi lo facciamo come un segno di grande sacrificio con la voglia di continuare a lottare all'interno della maggioranza sedendo ai tavoli che contano stando all'opposizione non potremmo farlo per continuare ad ottenere dei risultati per i cittadini italiani per far uscire le imprese dalla crisi economica per aiutare ogni singolo cittadino a superare anche la crisi sociale io immagino che ci sia tantissimo dolore nel Paese quindi in questo momento bisogna concentrarsi su questo e non farsi prendere da troppe crisi di coscienza Dalla politica invece al caso Ilva il presidente di Confindustria Marinaro scrive a Draghi per il futuro delle aziende dell'indotto Arcelor Mittal intanto i commissari in amministrazione straordinaria fanno sapere che sarà anticipata l'integrazione salariale ai lavoratori e i cassi integrati di Taranto nel servizio tutte le altre novità che riguardano il caso Arcelor Mittal Si sblocca l'anticipo dell'integrazione economica della cassa integrazione per i dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria i commissari di Ilva, Artito, Lupo e Danovi fanno sapere che in adesione alle richieste delle organizzazioni sindacali in sintonia con le istituzioni del territorio dopo aver consultato i previsti organi di controllo viene autorizzata la possibilità di erogare un anticipo competenze di 200 euro ai lavoratori in cassa integrazione di Taranto che ne faranno richiesta nel corrente mese di febbraio intanto il nuovo ministro dello sviluppo economico Giorgetti ha convocato per venerdì alle 14.30 in presenza nella sede del ministero un vertice su Arcelor Mittal la convocazione riguarda confederazioni sindacali sigle metalmeccaniche e commissari di Ilva in amministrazione straordinaria non è invitata Arcelor Mittal l'attuale gestore infitto degli impianti la riunione dovrebbe riguardare soprattutto il tema dell'integrazione salariale ai cassi integrati ma non è escluso che si faccia il punto anche su temi più complessivi sulla vicenda Ilva, Arcelor Mittal Confindustria Taranto intanto scrive alla presidente del Consiglio Draghi e chiede che le imprese possano essere relativamente allo stabilimento dell'acciaio protagoniste di un cambiamento ancora possibile partecipare ai processi di trasformazione che possano rilanciare la fabbrica e riaffermare la sua centralità in ambito nazionale infine Arcelor Mittal Italia comunica ufficialmente di aver depositato al Consiglio di Stato a Roma l'atto d'appello avverso la sentenza del Tar di Lecce dello scorso 13 febbraio Siamo a Taranto il pala Ricciardi è assolutamente chiuso sarà il luogo deputato per le vaccinazioni è stato riallestito dall'amministrazione comunale per poter essere funzionale rispetto all'esigenza dell'emergenza sanitaria Assessore Vigiano si lavorerà giorno e notte per allestire la palestra Ricciardi tra l'altro recentemente ristrutturata ad AB per la vaccinazione del personale scolastico dipendente comunale sabato 200 oltre 240 persone verranno a vaccinarsi qui Abbiamo messo a disposizione su richiesta anche del Presidente Emiliano la struttura della palestra Ricciardi che verrà fornita di tutto ciò che serve appunto per la vaccinazione a carico del Comune infatti abbiamo provveduto ad allestire un vero e proprio hub che verrà utilizzato appunto dalla ASL con tutto ciò che serviva dagli impianti piuttosto che le scrivanie i lettini insomma un vero e proprio centro vaccinale in maniera tale che chi viene qui possa trovare una immediata risposta e soprattutto che la ASL possa velocizzare le operazioni di vaccinazione è un centro che si presta benissimo a quelle che sono le finalità appunto del percorso vaccinale in quanto non ci sono diciamo ingerenze con la popolazione c'è un ampio spazio di parcheggio e soprattutto la ASL potrà godere di una struttura molto grande in maniera tale da poter differenziare anche varie postazioni e soprattutto avere anche dei luoghi dove chi viene vaccinato possa attendere in sicurezza eventuali effetti nei 15 minuti successivi come da normativa Sarà utilizzata questa struttura anche per vaccinare altro personale penso per esempio alle forze armate per le quali l'amministrazione comunale dovrà fornire il suo contributo di comune accordo con la ASL Noi siamo a piena e completa disposizione della ASL della regione e del governo perché vogliamo che il piano vaccinale sia il più veloce possibile quindi tutta la nostra collaborazione tutto il nostro supporto verrà assicurato per l'intero periodo della vaccinazione Adesso andiamo a sentire le brevi da Taranto e provincia Da giovedì 18 febbraio sino a venerdì 5 marzo a Martina Franca è vietata la permanenza e lo stazionamento di persone non il transito pedonale o veicolare non motivati da ragione di stretta necessità legata allo svolgimento o la fruizione delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente è stato il primo cittadino Franco Ancon ad avere emanato infatti una nuova ordinanza L'Urban Transition Center ha ricevuto nell'info point della Galleria Comunale del Castello Aragonese numerosi cittadini che raccogliendo l'opportunità offerta dall'amministrazione Melucci hanno formulato istanze e segnalazioni ma hanno dato anche spunti di idee Cristina Davena ringrazia Taranto e promette verrò per un concerto in teatro successo per i social del comune in 80 minuti di diretta 20.000 persone raggiunte e migliaia di messaggi inviati l'esibizione si è conclusa con la scritta grazie Taranto e con la promessa che il prossimo concerto la regina delle sigle lo farà dal vivo nella città dei Due Mari un amarcord di sigle e cartoni animati ha infatti siglato un carnevale segnato dalla pandemia in corso nonostante tutto come ha detto il sindaco in un videomessaggio lanciato da Cristina Davena era giusto regalare un momento di svago nonostante il momento difficile che la città ed il paese stanno attraversando a causa di un errore nella comunicazione da parte dell'asola di Taranto in alcuni moduli di prenotazione per le vaccinazioni anti-covid-19 è stato indicato un indirizzo sbagliato nel comune di San Giorgio Ionico la sede dell'ambulatorio dove verranno effettuate le vaccinazioni è esclusivamente quella posta in via Tiziano Vecellio Travolti da ondate di gelo e freddo la consigliera comunale di Taranto Carmen Casula ha organizzato insieme ai suoi collaboratori una raccolta di coperte e piumoni per i senza tetto e senza fissa dimora consegnati poi ai volontari della Caritas Diocesana in città vecchia a causa di interventi urgenti da parte di Accupine pressi dell'incrocio tra via Puglia e via Amatera e via Roma il transito lungo quest'ultima in direzione centro urbano viene deviato su via Gigli a Cadea Ginosa un carico di oltre 2000 magliette intime femminili con il falso marchio Made in Italy è stato sequestrato nel porto di Brindisi dove nel 2020 nonostante la pandemia l'agenzia delle dogane e la finanza hanno effettuato ben 87 di merce contraffatta il carico era accompagnato da documenti che certificavano l'origine albanese delle maglie intime femminili ma il controllo ha consentito di appurare che in realtà esse erano confezionate con cellofan trasparente da cui spiccava una fascetta tricolore attaccata alle maglie con impressa la scritta tessuto italiano funzionari della dogana di Brindisi e militari della guardia di finanza hanno sequestrato nel porto un carico di 2477 maglie intime femminili per falso Made in Italy a tutela dell'eccellenza manifatturiera nazionale la fornitura era destinata a una nota società trevigiana che l'avrebbe commercializzata spacciando il prodotto per italiano il titolare dell'azienda è stato denunciato solo qualche giorno fa i funzionari della dogana e i finanzieri avevano intercettato un carico di calzature questa volta provenienti dalla Grecia confezionate in maniera identica a quelle di una nota griff internazionale anche in quel caso il carico composto da oltre 2000 paglie di scarpe era stato sequestrato prima di finire nei negozi di una ditta del nord Italia la pandemia insomma non blocca l'industria della contraffazione che utilizza il porto di Brindisi come terminale di sbarco per i tir carichi di merce falsa proveniente dall'est europeo è destinata quasi sempre a ditte del centro e del nord Italia nel 2020 a Brindisi agenzia delle dogana e finanza hanno effettuato ben 87 sequestri di merce contraffatta si tratta di prodotti di ogni genere dalle scarpe alle borse dalle felpe alle maglie tutto taroccato in maniera sempre più precisa tanto che sistematicamente gli investigatori inviano campioni e gli esperti delle aziende i cui marchi vengono riportati sui prodotti per avere conferma della loro contraffazione lo scorso 28 gennaio sono state sequestrate più di 3000 borse da donna contraffatte a bordo di un auto articolato proveniente dalla Bulgaria erano tutte con il marchio Louis Vuitton destinate a una ditta toscana ed erano talmente simili agli originali che avrebbero potuto trarre in inganno anche i più esperti una truffa da centinaia di migliaia di euro a Taranto la chiusura del posto di polizia di frontiera nel porto di Taranto ha messo in allarme le agenzie marittime del territorio raccomare l'associazione degli agenti raccomandatari auspica un ripensamento da parte del ministero dell'interno tra gli operatori del porto di Taranto la preoccupazione cresce e l'annunciata chiusura del posto di polizia di frontiera presente nello scalo ionico dal 1968 non è una buona notizia il sistema portuale perderebbe professionalità di alto livello e il lavoro delle agenzie marittime si complicherebbe come spiega ai nostri microfoni il presidente di raccomare all'associazione degli agenti raccomandatari Giuseppe Melucci è un presidio di legalità il porto di Taranto è uno dei porti principali d'Italia dove avvengono quotidianamente imbarchi e sbarchi di marittimi arrivo di personale imbarcato una situazione che non ci consente di lavorare in serenità noi abbiamo invitato alla nostra sede principale la federagente di Roma di intervenire affinché il ministero degli interni ponga in essere tutta una serie di attività che garantisca la prosecuzione delle attività tipiche della polizia marittima ovvero il rilascio di permessi per i marittimi che vanno in città anche per questioni mediche come il rilascio dei visti per colori quali utilizzano Taranto per imbarcare e sbarcare dalle proprie navi andiamo a vedere le notizie in breve da Brindisi e dalla provincia nella sua auto sono stati scoperti 100 grammi di cocaina Massimiliano Barbarello 31 anni di San Pancrazio Salentino è stato arrestato dai carabinieri di Brindisi in via Appia la droga era nascosta in uno sportello della vettura minacciò un carabiniere della DIA dicendogli so dove abiti durante un'udienza in tribunale Raffaele Brandi ritenuto a capo di un clan criminale brindisino è stato condannato dalla corte di Cassazione che ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso sono stati arrestati per spaccio di droga e detenzione di arma clandestina Salvatore Di Vigiano 60 anni e Roberto Plenni Lunio di 27 entrambi di Torre Santa Susanna sono stati catturati dai carabinieri di San Pancrazio Salentino sequestrati 100 grammi di cocaina una pistola salve modificata e 4.700 euro in contanti continuava a perseguitare l'ex compagna un 36enne di Mesagni è stato arrestato dai carabinieri in posto e domiciliari gli episodi sarebbero avvenuti tra il maggio 2020 e il febbraio 2021 il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza generale di divisione Francesco Mattana ha fatto visita alla caserma della compagnia di Fasano dove è stato accolto dal comandante provinciale colonnello Nicola Bia e dal comandante della compagnia capitano Domenico Pirro McDonald's e fondazione per l'infanzia Ronald McDonald's doneranno 100 pasti caldi ogni settimana fino a marzo alla parrocchia santuario Mater Domini di Mesagne che offre accoglienza a persone e famiglie in difficoltà attraverso casa Zaccheo McDonald's per conto in provincia di Brindisi due ristoranti Carciofi videotrappole e rifiuti abbandonati a Francavilla Fontana Si è accostata con la sua utilitaria sul ciglio della strada e probabilmente a causa di una disattenzione ha perso la sua cassetta piena di carciofi per fortuna grazie all'aiuto delle videotrappole e delle indagini degli agenti della polizia locale quei poveri ortaggi sono stati prima accuditi presso il locale comando e poi affidati alle cure del sindaco di Francavilla Fontana che il giorno dopo ha riconsegnato quanto smarrito alla legittima proprietaria e accaduto nei giorni scorsi nella Città degli Imperiali in una via del centro abitato e sera fa freddo una donna come si vede dalle immagini registrate dalle videotrappole accosta la sua auto apre la portella e nel mentre perde diciamo così la sua cassetta di carciofi ammuffiti quindi va via probabilmente senza rendersi conto di aver smarrito il prezioso carico per fortuna agenti e amministrazione hanno preso a cuore il caso di quei poveri carciofi che il giorno dopo sono stati riconsegnati alla donna identificata grazie agli occhi elettronici la poverina quasi non ci credeva la cassetta nelle mani del sindaco Denuzzo era ritornata per la donna un verbale da circa 100 euro e un insegnamento da libro cuore cuore di carciofo questo è il nostro servizio di Michele Iurlaro fioccano le multe per l'abbandono di rifiuti ingombranti in strada anche a Taranto ma grazie al sistema di video e fototrappole implementato da Chima Ambiente arrivano appunto anche le sanzioni le cattive abitudini sono difficili da sradicare soprattutto quando si tratta dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti ma Chima Ambiente prosegue la propria battaglia e il sistema di videotrappole e fototrappole realizzato dall'azienda partecipata è un'arma di grande efficacia per combattere il malcostume sanzioni salatissime stanno giungendo ai trasgressori l'opera della centrale operativa non conosce sosta e le immagini filmati vengono selezionati e catalogati quelle più nitide vengono girate alla polizia locale permettono l'identificazione di chi sporca e la successiva emissione delle pesanti multe come negli ultimi video pubblicati da Chima Ambiente nel primo ripreso da telecamere in zona Tamburi due persone si liberano dei resti di una sala da bagno e abbandonano al di fuori del cassonetto una vater e altro materiale nel secondo sempre nella stessa zona tre donne abbandonano prima la rete di una materasso e poi degli scaffali peraltro in pieno coprifuoco nella terzo davanti all'isola ecologica della Salinella lo scenario non cambia altre parti di mobili vengono depositate per terra senza alcun rispetto delle norme hanno causato l'emissione di un avverbale contenente una multa da 500 euro eppure una soluzione c'è comoda e gratuita basta prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti al numero verde 800 013 739 rispettando il decoro e le proprie tasche le brevi adesso le notizie in breve dalla provincia di Lecce è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza e da testimonianze un 41enne di Lecce finisce agli arresti domiciliari per l'accusa di reato di furto con strappo lo scippo sarebbe quello del 18 gennaio scorso quando in un quartiere periferico della città una donna dopo aver subito il furto cadde per terra pur senza riportare ferite gravi o traumi l'operazione è stata condotta dagli uomini della squadra mobile di Lecce nella notte si sarebbero introdotti nell'ipercop di Surbo ma nonostante siano riusciti ad entrare non sarebbero riusciti a trovare il denaro il colpo è stato sventato anche in seguito all'intervento dei carabinieri gli investigatori ora cercano i colpevoli del tentato furto e si cerca di far luce anche su eventuali mancanze nel complesso sciopero giovedì mattina per le lavoratrici dell'ambito sociale di Lecce dopo il sit-in di martedì scorso davanti al comune braccia incrociate per le lavoratrici dei dieci comuni dell'interland leccese e arriva la solidarietà del PD salentino nel pomeriggio di mercoledì è stato messo in sicurezza il canale IDUME l'operazione manuale è stata condotta dalla protezione civile di Lecce con dieci dipendenti la messa in sicurezza serve a evitare che il fiume straripi così come già avvenuto nel 2020 in tre punti in seguito alle forti precipitazioni una festa diversa per San Gregorio Armeno patrono di Nardò giovedì la presentazione di un libro venerdì invece la funzione religiosa in diretta su YouTube e sabato il nuovo concerto bandistico terra d'Arneo città di Nardò farà un giro per le vie del centro storico fuochi di artificio e luminaria nelle vie del centro ma quest'anno niente processione e nemmeno la tradizionale fiera la facoltà di medicina a Lecce non dovrebbe essere più una chimera la giunta regionale ha deliberato 80 milioni di euro a Monta ben 83 milioni di euro l'investimento che la giunta regionale ha approvato nella seduta di lunedì per porre concrete basi per l'avvio del corso di laurea in medicina presso l'università del Salento si sta insomma lavorando per mettere in campo tutte le risorse utili a raggiungere l'obiettivo fanno sapere dallo staff dell'assessore regionale con delega all'università Sebastiano Leo più esattamente si tratterebbe di un'integrazione tra il classico percorso di medicina e chirurgia e ingegneria biomedica da parte del ministero erano state già date rassicurazioni sul via libera la nascita di questo tipo di facoltà rappresenta dunque non solo la conquista di un traguardo inseguito da tempo ma anche la sperimentazione di una specializzazione in chiave ingegneristica ritenuta ormai fondamentale per una formazione completa e a passo con i tempi medicina va ad arricchire l'area scientifica dell'università del Salento e sarà il catalizzatore di un rinnovato interesse da parte di aspiranti medici che potranno formarsi nel proprio territorio o comunque anche di studenti di altre regioni che superati test d'accesso potranno scegliere Lecce come città dove completare i propri studi ulteriori dettagli su questo servizio sulla facoltà di medicina a Lecce nel corso della prossima edizione del telegiornale perché in mattinata verrà presentato il progetto proprio nel chiostro del rettorato nella città salentina però per il momento è tutto noi ci rivediamo tra pochissimo per la lettura e lo sfoglio delle prime pagine dei quotidiani di Nicola stamattina grazie a tutti